Latte a lunga conservazione, caffè, zucchero, bicchieri di plastica e altro materiale. E' questo l'appello lanciato su Facebook da parte della Fraternità Federico Bindi, il centro diurno per senza tetto che si trova in via Chiassaia 25 ad Arezzo. E' un servizio che forniamo gratuitamente a persone in stato di necessità, bisognosi, senza tetto. Offriamo colazioni, facciamo lavatrici, la possibilità di fare una doccia. E' proprio per questo, siccome siamo un'associazione che si autofinanzia totalmente improprio, abbiamo sempre bisogno di fare degli appelli alla comunità per poter avere un po' di materiale. Nello specifico chiediamo materiali per la colazione, quindi caffè, zucchero, materiali di plastica per poter conferire questi prodotti, materiali per l'igiene personale, quindi sapone, bagno schiuma, lamette da barba, spazzolini da denti, dentifrici e per le lavatrici, quindi anche detersivi. E' un servizio che facciamo per offrire dignità a queste persone, ma penso che sia un servizio anche per tutta la città, perché permettendo a queste persone di essere anche in uno stato di dignità e di igiene personale, e offriamo un servizio poi anche di sicurezza e di decoro per tutta la città. L'appello è rivolto anche a nuovi volontari per dare una mano nel gestire il centro che accoglie ogni anno molte persone. Noi immediatamente abbiamo, ormai ne siamo aperti da quattro anni, circa 7.000 ingressi all'anno, quindi immediatamente vengono una trentina di persone. E' proprio l'idea dell'accoglienza familiare che vogliamo offrire a queste persone, la relazione, quindi il momento di ascolto, che è quello che più manca a queste persone. Poi c'è un'altra cosa che in questo momento facciamo sempre, un appello specifico per il sacchiapello. L'abbiamo iniziato alcuni anni fa con il sacchiapello di Federico. La mamma di Federico ha avuto questa idea di mettere a disposizione il sacchiapello di Federico e da lì abbiamo pensato all'inizio di ogni stagione, diciamo, preaturnale, di raccogliere dei sacchiapelli da dare a disposizione alle persone che non hanno la possibilità, almeno finché non sarà aperto il dormitorio, di poter avere un minimo di sicurezza, di dignità. Grazie a tutti.